A Frosinone, la vecchietta più amata o temuta dai bambini, è arrivata di giorno per premiarli con dolciume e giochi. La Befana ha dato appuntamento ai piccini nelle varie zone della città. A Colle Cottorino è arrivata in Caleffe, una manifestazione riuscitissima grazie ai ragazzi di Colle Cottorino che hanno riportato una vecchia tradizione dopo sei anni di fermo. Tanta volontà e tanta voglia di fare, cerchiamo di regalare un servizio a questi ragazzini che dopo questi tre anni di Covid chiusi dentro casa, cerchiamo di farli divertire in qualche modo. Nell'istituto delle suore agostiniane la Befana è arrivata in moto. Ha offerto giochi e calze ai bimbi delle case famiglia della città di Frosinone. Una Befana all'insegna della solidarietà. Cerchiamo di fare il nostro meglio possibile, cercando di regalare anche un sorriso perché prendendola in maniera goliardica insomma è sicuramente una cosa migliore. Quest'anno abbiamo dato anche un'evoluzione a quello che è sempre stato nella nostra tradizione abbiamo portato anche il Babbo Natale con i cavalli e vediamo un attimino se è una cosa in più, se può far piacere o meno. Sì, per noi è una soddisfazione, è un evento bellissimo portare un sorriso in più a questi bambini è veramente una gran bella cosa. Ai più poveri portiamo un sorriso proprio il giorno della Befana.